Ok Allora, buonasera Laura Fusetti, capitano del Combo 2000 Oggi grande prestazione Buonasera a tutti, sì, oggi è stata una bellissima prova di carattere da parte di tutta la squadra e penso proprio che ci siamo meritati dal primo minuto tutti questi tre punti quindi direi che è un bel inizio anno Esatto, infatti un inizio migliore non poteva esserci e adesso bisognerà magari continuare a ottenere qualche risultato positivo in più Sì, sicuramente, adesso abbiamo due settimane di pausa quindi potremo lavorare ancora meglio e ovviamente adesso questo deve essere un punto di partenza e dobbiamo sempre migliorare e giocare con tutta la grinta e la cattiveria calcistica ovviamente e fare sempre del nostro meglio, soprattutto giocando come una squadra, come abbiamo fatto oggi Ok, complimenti ancora, grazie